E ciao a tutti e bentornati a TheMedia, i nostri villaggi immoddati, un giorno forse città, su CitySkalens2. Nello scorso episodio abbiamo finalmente quasi finito il nostro villaggio montano qua, quello un po' caotico diciamo. E in più abbiamo sistemato un po' dei nostri incroci con traffic. Ho appena notato che qua ce n'è un altro che non ho sistemato, quindi ora lo andiamo a sistemare immediatamente. Che bello poter rimuovere tutti i collegamenti così in un attimo. Che spettacolo. Prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su CitySkalens2. Bene, questo è un po' diverso da quelli che ho fatto le altre volte mi sa, no? Eh già. Ma vabbè, vediamo se è migliore degli altri oppure no. Comunque, direi di andare subito a finire questo villaggio così non dobbiamo più pensarci, che sarebbe una gran bella cosa. E in più voglio anche iniziare a fare un po' di campi perché secondo me siamo rimasti molto indietro. Immaginavo. Con la produzione delle nostre cose. Per cui, dopo che avremo sistemato questo, inizieremo ad andare giù pesantemente di campi. Quindi, direi di andare a fare un po' come abbiamo fatto di solito. Andiamo a far tograbble Wildness così. Posso vedere cosa sto facendo. Qua, negozietto. Perfetto. Qua, vediamo un poco. Io farei una cosa così. Perfetto. Perfetto. Intanto che lì cresce, andiamo a iniziare a fare il discorso dei campi, che sapete che qua avevo preparato. Quindi, innanzitutto, andiamo a inserire, se necessario, della fertilità. Se necessario. Tiriamo un pochino su qua. La risposta è non è necessario. Quindi qua possiamo fare assolutamente dei campi. Quindi, vediamo un poco. Ecco, al momento il nostro problema maggiore è il grano. Per cui, adesso lo andremo a sistemare. Quindi, andiamo a piazzare un po' di robe di grano qua. Faremo solo ed esclusivamente grano, direi. Shift V, grazie che voglio vedere cosa sto facendo. Andremo anche a utilizzare l'anarchia. Che voglio fare una singola azienda in ogni area, diciamo. Poi lo so che dovrei fare la cosa con gli alberi, è come avevamo parlato altre volte. Ma in questo caso siamo talmente tanto in carenza che quest'area la lascio senza alberi di contorno. Senza la decorazione. Quest'area la lasciamo proprio piena il più possibile di campi coltivati. Che è comunque realistico, non sempre ci sono gli alberi, eh. Dipende un po' dalle regioni dove andate. Se andate a vedere in Texas, di fianco ai campi, raramente ci sono delle file di alberi o cose del genere. Sono più cose desolate, diciamo. Andiamo a fare la stessa cosa di nuovo qua. E anche negli altri spazi. Magari ci fermiamo dopo aver fatto questo e andiamo a mettere qualche altra casetta al villaggio montano. Su, vediamo. Ehi, si è attaccato al bordo sbagliato della strada, ragazzo mio. Ok, andiamo fin qua. Tac, perfetto. Poi andiamo qua giù. Ricorso ai raccogliibili 356 tonnellate. Poi però non le raccoglie. Non ho ancora capito sta cosa che è un po' di tempo che ci crea dei problemi. Vabbè, vedremo. Allora, qua giù io direi di andare anche a piazzare un po' di cosine, quindi... Vediamo un po' che io andrei a mettere sicuramente anche un po' di mixed. Lì. Questo è tutto mixed. Anzi. Questi due li facciamo... Ufficetti ad alta densità. Qua posso fare una bella palazzina enorme e unica. Lì. Ok. E lasciamolo andare. Nel mente, torniamo ai nostri campi qua giù. Quindi, ho anche questo campo qua da fare, che è un po' più piccino, ma... Comunque, è da fare. Quindi. Qua. Comunque, adesso andiamo a fare tutto il bel contorno. Comunque, adesso andiamo a fare tutto il bel contorno. Fantastico. E poi... Vediamo un poco. A me qua giù piacerebbe mettere qualche casettina di lavoratori, per cui potrebbe essere interessante fare una cosa un pochino diversa. Fare qualcosina così. Non è esattamente quello che volevo fare. Aspettate, vediamo un poco. Ah, giusto. Lo posso fare così? Non. Ok. E poi solo a destra. Perfetto. Esattamente come lo volevo. E io lo vado a mettere qui in mezzo, il grano. E questa volta lo mettiamo dietro le case. E lasceremo magari una fila di alberi, direi. Questo giro sì, dai. Perfetto. Così qua potremo poi mettere qualche albero in futuro. Ok. Sicuramente questo dovrebbe aiutarci un po' col grano. Dovrebbe darci più di 1500 tonnellate. Se non ho visto male i numeri. Però, secondo me, non ce ne darà abbastanza. Secondo me. Vedremo. Vedremo, ma... C'è qualcosina che non mi quadra con la produzione delle mie aziende. E non so bene il perché. È così da un bel po', eh. Da prima dell'arrivo di Paradox Mods. Da prima che mettessi in pausa The Media. È proprio un po' che c'è. Come problema. Allora, per quanto riguarda le casette in quest'area. Io le vado a inserire... Così. Allora. La vera domanda è... Low. Grazie. Live1. No, non gli piace Live1. Allora. Ok, questo mi piace. Non sono proprio le casette esattamente come le volevo. Ma non ne abbiamo ancora una cosa stile villa di campagna. Per cui... Purtroppo mi devo accontentare. Ma ho intenzione proprio di piazzare tutte queste casettine identiche proprio. Tutto qua intorno. Per dire un po', questi sono... Le casette dei contadini, praticamente, che lavorano qua nei campi. Lo so che non è proprio fatto bene, ma ripeto, non abbiamo delle casette di campagna. Per cui ci dobbiamo accontentare con questo. Allora, questo io lo renderei un vicolo, non una stradina di campagna. Lì. E qua sicuramente possiamo fare qualche casetta a schiera. Lì. Così diamo anche un altro po' di popolazione per lavorare nei campi. Detto ciò... Andiamo a vedere un pochino la curvatura del terreno perché non abbiamo più aree piatte qua, mi sa. Il resto è tutta montagna, ne? Abbiamo quest'area che potremmo appiattirla un po' per fare un ulteriore campo e basta. Facciamolo, dai. Allora, il pennellino, vammelo un po' più piccino. Ok. Ancora più piccino, che andiamo ad addolcire qua al bordo. Ok. E adesso vediamo il modo di farci arrivare una stradina. Vediamo un poco. Sicuramente la stradina potrebbe anche scendere dall'alto, eh. Però... Io direi che la stradina può tentare la salita da qua. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su siti Skylines 2. Ah, ero già all'altezza giusta, mi sa. No, sono già fin troppo alto, anche altro che altezza giusta. Devo stare qua sulla linea nera, praticamente. Però, devo rifare perché... Devo togliere anche l'angolo retto. E la griglia. Ok, adesso si ragiona. Perfetto. Bella laggata, sì. Allora, vediamo un poco. Possiamo fare noi qualcosa di interessante qui? O finirà a fare soltanto una sorta di cerchio e chiudersi? Sicuramente noi possiamo fare... Una cosa... Così. Sicuro. Riportarla in basso non avrebbe senso. Ora, ha senso per noi andare fin sopra e collegarci qua all'autostrada. Non sarebbe una brutta idea, non lo sarebbe. Però taglieremo fuori un altro pezzo di autostrada e la cosa non mi piace, quindi mi accontento. Eh, eh, eh. Bug. T'ho visto subito stavolta. Unfame. Ok. Purtroppo io non posso vedere la pendenza quando costruisco questo, quindi... Devo andare... A spanne quasi. Ok. Direi che andare a spanne... Sono riuscito comunque a farlo abbastanza bene, dai. Devo giusto accorciare... Questo... E... Questo. Ma sì, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì. Qua posso andare ad aggiungere questo un po'. Ok. Ok, quindi... Adesso quello che mi rimane è letteralmente fare un paio qua di collegamenti pedonali. Così, finalmente, quelli che arrivano da di qua hanno uno scopo. Utilizzare questi collegamenti pedonali per arrivare... Per arrivare... Alle nostre stradine. Bene. Mi ritengo soddisfatto, dai. Mi ritengo soddisfatto. Magari... Eh... Toglimi tutti gli snapping, grazie. Non mi dispiacerebbe andare a fare... Qualcosa così. Tanto per dire che abbiamo un collegamento. Ottimo. È un incidente. Eh, vabbè. Pace, amen. Ripa il bro, che ha deciso di schiantarsi. Ok. Dai, non è venuta male quest'area. Sono abbastanza soddisfatto. Il problema è che non produrrà quanto deve. Cioè, noi abbiamo aggiunto quasi mille tonnellate. Il gioco ha deciso di aggiungerne 300. Non riesco a capire perché l'agricoltura funzioni così male. Deve essere sicuramente qualcuna delle mod che ho presenti. Che va a dar problemi, però... Eh. Cos'è? Quello è tutto un altro discorso. Perché? Dubito che sia... Population Rebalance. Non c'entra nulla. Quindi... Dove essere qualcos'altro. Guarda che... Perché abbiamo tutto l'inquinamento presente che io l'avevo annullato? Mistero. Andiamo a ricontrollare un attimo. Shift-2. Ok. Perfetto. Allora, torniamo al nostro villaggio montano che sicuramente... Ha costruito. Oh... Ottimo così. Allora, andiamo a mettere... Il solito giro di albero. Allora, senza anarchi. Grazie. Eccoci qua. Numero 2. Sempre verdi. Perfetto. E poi c'è spugli. E voilà. Farei un secondo giro io, sinceramente. Sembra di vedere veramente tanto spazio vuoto. Guarda che se magari mettessi la robustessa al massimo sarebbe una gran bella idea. Ok. Poi rifacciamo il giro con i sempreverdi. Ok. Adesso si ragiona. Adesso ci sono un po' di alberi. Fantastico. Allora. Vediamo un po'. Uh la la. Questa è una tragedia. Ok. È tempo di rendere la situazione un po' migliore. Perché qua... Non mi ero accorto del problema. Allora. Vediamo un po'. Tutti vogliono andare di qua. Ok. Allora. Io direi che come prima possibile soluzione noi possiamo semplicemente andare a trasformare questo in questo poi andare a fare questo pausa temporanea grazie qua mi diventa un 2-3 ok qua mi diventa un 1-1 con divieto di andare a destra se vuoi andare a destra già ce l'hai la strada questo sicuramente dovrebbe aiutarci poi niente semaforo qua in mezzo niente strisce pedonali niente interruzioni vai e basta bello ok qua sicuramente ci vuole il doppio e adesso andiamo anche a sistemare un attimo queste cose che non hanno senso ok vediamo se questo aiuta un po' dovrebbe aiutare secondo me ah certo l'auto che fa 30.000 inversioni c'ha assolutamente senso bene belle le curve bellissime via così la piantate di fare curve bello il camion che decide di cambiare corsia in mezzo a tutto spettacolo ok sicuramente questo dovrebbe aiutarci un poco ora qua però abbiamo mucho traffico quindi io direi questi noi possiamo dargli come prima uno così perfetto ehi nessuno ti ha detto che devi piegarmi questa non mi piace bella raggata complimenti a te famiglia fatemela riconnettere va ok adesso mi piace molto di più non mi piace la verticalità quello assolutamente no ma adesso vedremo di risolvere anche quello poi visto che abbiamo questo questo lo possiamo ridurre e gli vietiamo di andare a destra e allora le ok detto ciò sicuramente noi potremmo alzarci un pochino che dici e noi qua potremmo anche abbassarci un pochino ok vediamo se questo aiuta un po' così questo dovrebbe dare una corsia in più a chi vuole far soltanto quel giro lì senza complicanze vedremo di fornire qualcosa di migliore perché effettivamente io mi aspettavo che più gente andasse a finire qua giù ma non c'è senso quando hanno il collegamento qua oh guardate come scorrono ma però ottimo allora qua io direi di fare una cosina interessante vediamo se ci aiuta così e poi allora innanzitutto togliamo la zozzeria ok poi ok vediamo se questo ci aiuta un poco a questo punto io direi che possiamo letteralmente lasciarle tre corsie fino in fondo se non mi fanno 30.000 cambi corsie e stipolli meglio di no abbiamo il problema dei semafori poi però ah non ci avevo pensato non ci avevo pensato eh no così non va così assolutamente non va rotonda ok bro ok bro vediamo un poco se ti piace di più così spero spero altrimenti la provo a creare manualmente la rotonda anche se poi non ha il concetto di precedenza ma vabbè non che ce l'abbia nemmeno qua il concetto di precedenza onestamente oh ora come si è stirato via tutta la gente subito eh dai raga direi che è funzionato abbastanza bene quello che abbiamo fatto non c'è più coda assolutamente niente più coda ottimo sono estremamente soddisfatto allora torniamo finalmente a costruire case che abbiamo ancora qualcosina da fare ok e adesso come prima alberelli quindi lì poi numero due quei sempreverdi ok e poi ci spuglie perfetto andiamo a fare la stessa cosa anche qua giù poi andiamo a fare qua e qua perfetto e andiamo di nuovo di alberi ok poi sempreverdi e poi c'è spuglie ok ok ora mancano gli ultimi potenziamenti come la barriera antisuono che devo inserire qua che devo inserire qua perché abbiamo delle sezioni abitate qua giù non le abbiamo più le sezioni abitate quindi va bene così ottimo 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 traffico non abbiamo più avuto problemi quindi questa modifica che abbiamo fatto funziona qua giù qua giù devo assolutamente sistemare l'incrocio un secondo che è inguardabile allora tu dritto non ci vai così è già un po' meglio l'incrocio il problema è che ho le tre corsie nei sensi sbagliati quindi le sistemo un attimo velocemente ok adesso sono nei sensi giusti ah si è già messo a posto in automatico fantastico non devo fare altro andiamo a mettere la posta anche qua giù allora intanto che ci siamo non è a posto qua adesso lo è e si è già messo a posto in automatico ottimo allora l'ultima cosa voglio andare a vedere un attimino in modalità camera com'è questa stradina da far così mi serve un'auto che vada dritta che suppongo sia questa che vuole andare dritto o anche lui va benissimo quindi la seguo camera ok e vediamo un poco ok ci sono un po' di alberi che spuntano dalla barriera ma a parte quello a me piace un botto raga poi ovviamente andremo a riempire anche lì le colline e tutto e di alberi non vi preoccupate però mi piace veramente un sacco com'è venuta che ha una montagna da un lato la barriera insonorizzante dall'altro e una volta che arriva giù si scopre tutto il villaggio fantastico piace veramente veramente un botto ottimo signori direi che per oggi noi ci fermiamo qua ci mancano giuste pochissime abitazioni ma davvero non ho più tempo oggi nel prossimo andremo ad aggiungere quel piccinino di abitazione che ci mancano gli alberi che ci mancano qua intorno e poi direi che possiamo quasi dire concluso il villaggio vedremo un pochino cosa fare da quest'altra parte magari ma io direi che il 99% è fatto e sono davvero molto soddisfatto ciao